ciao a tutti bentornati sul canale questa è la serie car of the day una macchinina al giorno e un video al giorno quest'oggi abbiamo un ram 1500 rebel del 2020 come modello però è della hot wheels 2021 è questo è blu metallizzato molto bello anche questa che usa i cerchi praticamente color marron perché penso che via che diciamo che si riferisca al fango delle fuoristrada perché sono gomme maroni non ho mai visto questa è la baria blazer ed è 8 di 10 andiamo ad aprirla anche di queste ne abbiamo tante altre versioni diverse colorazioni hanno fatte in quest'oggi la vediamo in questo bellissimo blu metallizzato guardate che che macchina cattiva è molto molto cattiva come macchina diamo un pochino aggiustiamo il tiro eccola qua c'è proprio le prese d'aria sul cofano c'è il tetto trasparente c'è il vano del pick up due colori il fondo è nero che questa è fatta in malesia ormai le fanno tutte in malesia made di malesia fondo di plastica peccato però è abbastanza solida come macchina una bella macchina robusta diciamo non darsi cioè bella pesante non dà un senso di fragilità effettivamente passo lungo con doppia portiera quindi è un qua un cinque posti con appunto le prese di plastica sul cofano nere bellissimo però ben rifinita perché c'è i fanali la scritta ram davanti i fanali dietro insomma sono certe men che sono veramente più belle delle altre perché sono più rifinite altre invece meno rifinite non so con quale politica ad ora adottano la mattella adotta per avere delle macchine più diciamo rifinite meno rifinite si vede che ci sarà qualche politica che a me sconosciuta quindi questa è la doge ram bellissimo proprio un blazer enorme questi qua visti dal vivo sono veramente grossi dal vero sono veramente alti e niente questo fa parte del video car of the day un video al giorno quindi iscrivetevi al canale vi aspetto numerosi perché ogni giorno presentiamo una macchinina nuova un po di tutte le annate e poi la domenica invece c'è il video ufficiale quello più lungo che vi aspetto quindi ogni giorno con una macchina nuova e la domenica col video istituzionale quindi rispetto a domani e con la prossima macchinina ciao a tutti iscrivetevi al canale ciao ciao iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale